Grazie per l'invito che mi dà la possibilità di esprimere la mia opinione su questo progetto. Cercherò di stare nei tempi assegnati. Come è stato detto da chi mi ha preceduto viviamo tempi complessi, tempi di grandi cambiamenti culturali che comportano cambiamenti negli stili di vita, negli stili di consumo. Ci apprestiamo ad una transizione tecnologica che cambierà il modo di pensare, il modo di vivere, il modo di produrre delle aziende. Quindi è un periodo difficile probabilmente per molte filiere, per molti settori dell'economia. È vero che darà anche grandi opportunità ma sarà certamente un passaggio epocale non facile. In questo scenario il compito degli imprenditori è di mettere in campo come sempre visione, grande determinazione e soprattutto grande coraggio. Credo che sarà la dote che dovremo esprimere in modo più consistente e concreto. Alle istituzioni compete viceversa il ruolo di interpretare questi bisogni, di capire questi bisogni, di anticiparli se possibile e mettere in atto quelle iniziative, quegli strumenti che possono essere di supporto al sistema economico perché questa transizione tecnologica possa essere effettivamente un'opportunità e possa consentire a questo territorio di continuare nel suo cammino di progresso e di sviluppo che i nostri padri ci hanno assicurato con tanto impegno e con tanta laboriosità. Per questa ragione io credo che questo sia uno importante strumento di quelli a cui accennavo prima e quindi vedo con assoluto favore l'iniziativa di una cittadella dell'innovazione sostenibile. È un progetto importante, innovativo, secondo me ha tre caratteristiche importanti che vanno sottolineate. Da un lato è innovativo, è distintivo e quindi è in grado di caratterizzare Brescia e quindi di renderla visibile e quando si è più visibili si è anche più attrattivi e perché no dare a Brescia un ruolo importante e anche di attrattività per quello che potrà esprimere anche in termini di qualità della vita, della vita sociale e della vita economica. Fulminato! Finisco, finisco. È un progetto inclusivo, l'abbiamo detto a più riprese, il tema di fare sistema è entrato negli interventi di tutti coloro che mi hanno preceduto, non posso non essere d'accordo sul tema, fare sistema e mettere a fattore comune le tante energie che caratterizzano questo territorio essenziale. E l'ultima cosa che secondo me è importante è che il CSMT mette al centro, auspico che lo faccia con grande determinazione, come primo mattone di questa cittadella, il tema dell'attrazione delle competenze, del trasferimento tecnologico. Questo è veramente il tema che farà la differenza. Le imprese bresciane hanno bisogno di attrarre competenze, di avere una relazione importante con il mondo della formazione e il mondo della ricerca. il CSMT può essere la cerniera che unisce questi mondi con il mondo dell'industria e dell'impresa più in generale. Quindi la Camera di Commercio sarà al fianco di questo progetto portando il contributo anche delle sue iniziative. Fatemi dire, a partire da Futura Expo, che sarà la grande vetrina che nel 2022 darà possibilità alle imprese e alle istituzioni di parlare dell'innovazione sostenibile di Brescia.